La richiesta di convocazione dell'Assemblea c'è. A depositarla Beniamino Palmieri dell'area Famiglietti e Ivo Capone in rappresentanza della componente che fa capo a Rosetta D'Amelio. Tra le 44 firme in calce al documento ci sono anche quelle degli ecologisti di Gianluca Festa. Mancano invece quelle dell'area di Tony Ricciardi e della sinistra che fa riferimento a Todisco. La richiesta ora è nelle mani della presidente Roberta Santaniello che dovrà convocare l'Assemblea entro la fine del mese. Si tratta di un passaggio cruciale per il PD. Formalmente i dissidenti chiedono che ci sia una verifica politica sull'operato del segretario De Blasio, giudicato inadeguato. Sotto traccia si lavora la sfiducia del segretario per portare così il partito ad un congresso anticipato. Difficile disegnare scenari, troppa la confusione che regna via tagliamento. In ogni caso la resa dei conti è iniziata. De Blasio si trova ad avere contro quasi metà del partito e al suo fianco una maggioranza tutt'altro che solida. Lei conta di convincere i cosiddetti dissidenti che aumentano giorno dopo giorno oppure l'epilogo sarà un commissario di questa vicenda? Guardi, questa è una cosa che torna nella letteratura di questi giorni. Per commissariare un partito c'è bisogno di una ragione molto forte. Immaginate quello che è accaduto a Roma dopo mesi sono arrivati a commissariare il partito. La questione del commissariamento è una questione inesistente. C'è una questione però di discussione politica rispetto alla quale a me io sono il primo disponibile pronto a raccogliere anche la sollecitazione. Discutere l'importante lo facciamo sulle questioni, sui problemi. Quando ho detto questa commedia deve finire e ho anche detto il senso politico più forte di un'assemblea è quello di mettere all'ordine del giorno la mozione di sfiducia perché se uno per me si dice che il segretario non funziona arriva il momento in cui va a verificare quella possibilità di fermare il segretario. Se invece serve soltanto fare un po' di teatrino allora questo evitiamocelo. Come dire, è un suggerimento, non è una pretesa.